Blitz di carabinieri, polizia locale e polizia di stato nell'ultimo weekend a Biceglie tra sabato 21 e domenica 22 agosto sulla zona della litorale particolarmente interessata dalla Movida in prossimità dei locali più frequentati dei giovani. Le forze dell'ordine hanno multato tre titolari di attività commerciali perché all'interno dei rispettivi locali erano in corso attività danzanti vietate dalla normativa anti-covid ma non solo. Le emissioni sonore sono proseguite ben oltre le due di notte nonostante il divieto imposto dal regolamento di polizia urbana. Ai tre locali sanzionati è stata inoltre combinata la sospensione dell'attività per cinque giorni mentre per due di questi già controllati e sanzionati in precedenza è scattata la recidiva e dunque l'aggravio sulle sanzioni pecuniarie da pagare. L'attività delle forze dell'ordine è stata effettuata attraverso diversi controlli con carabinieri in borghese che hanno acquisito le prove con video realizzati proprio all'interno dei locali della Movida. I militari hanno così accertato che in quei luoghi i titolari non si limitavano alla sola possibilità di somministrazione di alimenti e bevande ma permettevano i clienti anche di ballare una sorta di discoteca all'aperto attività come noto fortemente vietata. L'operazione portata a termine dalle forze dell'ordine è solo l'ultima di una serie di interventi messi in campo durante tutta l'estate biscelliese per verificare il rispetto delle norme anti covid in questa fase ancora delicata dell'emergenza a tutela della salute pubblica. I tre locali sanzionati e poi chiusi riapriranno i battenti in questo fine settimana. Grazie a tutti.